Musica Parliamo di un grande fotografo cremonese, molto conosciuto, originario di Martignana Po, Luigi Briselli, benvenuto a Cremona 1 Venga Lo ospitiamo perché l'altro giorno, sabato scorso, è stata inaugurata una sua mostra in Santa Maria della Pietà, in piazza Giovanni XXIII che sarà aperta fino al 15 novembre, tutti i giorni dal martedì alla domenica Quante fotografie avete raccolto, ha raccolto Briselli in questa mostra? Dunque, in questa mostra sono esposte 342 foto Quindi insomma c'è veramente di tutto Abbiamo anche qualche immagine, un video che ci mostra Santa Maria della Pietà che tra poco vedremo, un'inaugurazione in grande stile queste sono le foto, alcune delle foto che si possono vedere, tanti personaggi abbiamo visto madre Teresa di Calcutta, Papa Giovanni, Gianni Morandi Lei ha fatto anche tanti ritratti di personaggi famosi nella sua lunga carriera Sì, sono tutti ritratti rubati, non è mai stato messo in posa il soggetto e durante le manifestazioni, perché quando andavo sia per i giornali e così a fare qualche servizio tanto ero che dovrei ricordare che il primo servizio con madre Teresa di Calcutta è stato fatto con il vostro direttore, con Mario Silla Con Mario Silla, il nostro direttore che scrisse un articolo su madre Teresa dove, in che occasione? Nell'occasione di un primo Riorolo Mantovano Quindi madre Teresa venne a Riorolo Mantovano Venne a Riorolo Mantovano Stiamo parlando del 1800? 1982 1982, stiamo tornando indietro Ecco, vedete una carrellata? È una carrellata, diciamo Ah, bellissimo questo spazio Troppo, diciamo, anche troppe foto Però si voleva riempire Santa Maria della Pietà per cui abbiamo voluto dare con, diciamo, il circolo d'Affa il circolo fotografico d'Affa abbiamo voluto dare questa carrellata che, diciamo, è anche troppo lunga Allora, tra l'altro anche tante pubblicazioni Lei ne ha portate alcune qui nel nostro studio pubblicazioni che raccolgono le sue foto Ecco, io ho superato le 80 pubblicazioni Tutto questo Questa è l'ultima È l'ultima che è, diciamo, in mostra a, diciamo, in Santa Maria della Pietà e questa era quella dei ritratti di personaggi famosi Sì Ero partito però prima con dei personaggi normali della nostra terra E poi dopo avevo fotografato avevo messo in comparazione questi personaggi famosi perché i mass media ultimamente sia politici o teatrali portano questi personaggi in periferia che prima non arrivavano Certo Per cui sono tutti persone Quindi lei comunque lavorando sempre in ambito, diciamo, cremonese Sì, ecco, in ambito cremonese È riuscito comunque a incontrare grandi Sono riuscito a incontrare tutti questi grandi personaggi Vediamone alcuni allora Abbiamo appunto raccolto qualche foto Prima abbiamo già intravisto alcuni dei grandi personaggi Dicevamo madre Teresa Ecco, questa è una lavorazione perché ho fatto anche all'inizio dei vari mestieri Questa è la lavorazione del maiale l'uccisione del maiale con la lavorazione dell'interiore e sì, i personaggi per madre Teresa Calcutta il papa quando è venuto a Cremona C'è anche il 1988 Ecco Vedi, questo me lo ricordo Ecco qua, questa foto Questa è Uriela Dorella che ha ballato a Casal Maggiore Il Dalai Lama Il Dalai Lama E Uriela Dorella, ecco Questo l'ho fatto a Mantua però Era venuto a Mantua Era venuto a Fo Dario Fo E Uriela Dorella ha la caratteristica che aveva la mamma di Motta Sanfermo di Casal Maggiore e allora quella sera lì la nonna Quella sera lì questa è una foto che mi è cara perché è Bocelli con il primo figlio che è molto tenere quella manina Bocelli anche lui in concerto qui Lo Zenita Casal Maggiore era proprio le prime armi Anche lui non si immaginava che poi avrebbe Sì che fosse diventato chi è diventato Questa? Mario Lodi questo in un momento molto interiore suo con il suo cane Grandissimo educatore Mario Lodi Ecco un grande personaggio della nostra terra e dobbiamo essere molto riconoscenti questo personaggio Certo Andiamo avanti dicevamo dopo i personaggi ci sono state poi ecco ancora Maria Teresa e poi dicevamo Sì questo è stato un personaggio penso che abbia lasciato un segno anche Qui addirittura saluta Saluta quelle della Casa del Sole le ricoverate della Casa del Sole penso che abbia lasciato anche un segno anche in Mario Silla perché ti ritrovi una donna di un metro e cinquante se no di altezza senza guardia del corpo senza niente mentre anche il Papa gira con le guardie del corpo mentre lei nella sua soltezza nella sua semplicità poi abbiamo visto Gianni Morandi che insomma ormai è di casa a Cremona perché oltre che le corse ha cantato anche ecco questo è Alberto Beilacqua che è scomparso recentemente scomparso recentemente mi ha fatto alcune prefazioni di alcuni libri il Po e le sue terre così c'era un'amicizia che ci legava perché lui era molto legato a Parma per cui la gente del Po la gente di questa terra era ecco qua è un vecchioni un vecchioni luce e ombra Luca e ombra è a Cremona durante una manifestazione dell'Eco Joe avevano messo giù due tendoni uno culturale che avevano una mostra mia sul Po e uno di trattenimento che è venuto Vecchioni se fossi Vecchioni gliela chiederei gliela chiesta perché questa qui è molto particolare ma molti personaggi sinceramente vi devo dire che non lo sanno nemmeno non lo sanno quindi si vedono adesso andiamo velocemente avanti perché c'è una carrellata che vorremmo vedere fino alla fine quindi poi qua purtroppo anche se l'ho messa dentro qua è un Michel Platini mentre l'altra c'era Cabrini Sirea Genegnocchi altra caratura rispetto a Platini questo è il cimitero di Cremona ha dedicato una serie di foto al cimitero di Cremona sì perché è un cimitero monumentale molto bello e io qua ho una questo è il funerale di Visi Oria Chiesa Maggiore della Medaglia d'Oro ecco poi una serie di antichi mestieri anche di antichi mestieri ecco questo il bergamino il falciatore diciamo il bergamino con il cestaio che poi è diventato diciamo un emblema della mostra della Dafa splendida questa è un'ansia del Po è un'ansia del Po è un'isola sul Po per cui ecco il cordaio che ormai questo è il bimbo è l'ultimo cordaio che c'è a Castelponzone scomparso lui sono scomparsi i cordai sono scomparsi ancora il Po ritratto questa volta a colori deve essere la bandigio a Cremona quindi bianco e nero ma anche a colori sì bianco e nero diciamo il bianco e nero è più apprezzato dagli addetti ai lavori che il colore ecco questa è una Cremona dall'alto era il libro che è stato regalato a Ciampi per la sua visita ufficiale qua a Cremona nel 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 2004 ecco ecco no almeno io ricordo la visita attenzione qui abbiamo un Gianni Agnelli e subito dopo qualcuno che gli assomiglia ecco qua qua abbiamo i carriere Gianni Arvedi nella stessa giornata li ho fatti durante un simposio degli industriali qua a Cremona va bene perfetto Briselli fino al 15 novembre in Santa Maria della Pietà complimenti grazie vi ringrazio a voi una carriera veramente lunghissima la passione la dedizione alla fotografia e grazie a voi che avete dato un flash come è cambiato il suo mestiere in tanti anni adesso fotografano tutti è cambiato in digitale il problema è solo questo che l'occhio o qualche cosa di interiore quando si fanno le foto ce l'hanno anche gli altri non solo io però siamo in pochi benissimo ci fa piacere tutti hanno la macchina ma poi ci vuole un occhio interiore che è diverso grazie Briselli complimenti breve pause poi altri ospiti